Oggi mettiamo un altro punto fermo su quello che è il percorso dell'Abruzzo-Regione del Benessere per cui ricordando l'articolo 41 della finanziaria che aveva stabilito e aveva incluso all'interno della finanziaria appunto le linee guida dell'Abruzzo-Regione del Benessere oggi qui all'Aquila abbiamo svelato parte dei piani operativi di questo progetto che vedrà l'Arta come braccio operativo per la realizzazione delle linee guida avendo poi cambiato qualche settimana fa anche il nome e quindi anche l'operatività dell'arte in tema di transizione ecologica siamo pronti a essere il recettore dei fondi che arriveranno nel recovery plan per quanto riguarda la transizione ecologica e siamo contenti di quello che sta accadendo anche dal punto di vista governativo rispetto ai ristori per le aziende del settore alberghiero della montagna per gli impianti di risarita e tutto il comprensorio siamo felici anche del fatto che l'Abruzzo è stata forse la prima regione a presentare una legge in tal senso dopodiché ci sarà questa sinergia tra la costa, la montagna e le aree interne con al centro i nostri assessori, i nostri assessori delegati quindi Campitelli, Imprudente, Verì e Quaresimale quindi formazione, sanità, ambiente e riserve tutte queste materie saranno oggetto dei piani operativi di questa norma che sui territori sveleremo anche nelle prossime settimane Ci sono degli interventi già nel breve termine messi in programma che possiamo annunciare ai cittadini? Intanto c'è questa convenzione con l'università poi credo che entreremo da un punto di vista operativo anche a ragionare di gestioni di aree sui territori regionali quindi della brandizzazione appunto della regione del benessere attraverso una campagna di comunicazione quindi sono tutti passaggi che sono all'interno del piano operativo e che concretamente nelle prossime settimane poi vedranno opera sui territori quindi c'è tanta carne al fuoco e siamo contenti di questo percorso che abbiamo avviato un anno fa che vede un po' di ritardo esclusivamente perché il Covid ovviamente ha allungato i tempi dell'operatività Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.